Noi abbiamo fatto una bella passeggiata e siamo andati sulla spiaggetta della pagoda, un angolo meraviglioso perché veramente raccolto, simpatico, una bella spiaggetta. La spiaggetta attualmente è veramente abbandonata. C'è una pseudopanchina molto vintage tra l'altro perché praticamente la panchina è ridotta solo a un tronco lungo così. Sforcizia da tutte le parti, quindi nessuno che va a pulire. Soprattutto poi abbiamo scoperto questi cavi, questi fili elettrici, praticamente esposte al vento, all'acqua, che se fossero in tensione sicuramente potrebbero creare una sorta di incendio o creare grossi problemi. In più c'è anche un dispendio energetico perché lungo tutto il braccio che va verso il faro abbiamo visto che c'era l'illuminazione in pieno giorno attiva. Quindi praticamente c'è anche un dispendio energetico che è un peccato proprio. Io infatti ho anche fatto presente soprattutto della cassetta delle prese elettriche scoperte così al comandante Cipresso, che è una persona squisita. Quindi lui ha detto che giustamente si occuperà di questa situazione. È un peccato perché noi, già la spiaggetta due anni fa fu interessata da una sorta di fai-da-te, perché avevano, infatti, sapemmo anche questa cosa, che c'era chi aveva creato una sorta di lido privato, quindi affittava ombrelloni così. Perché fare tutto questo? Questi sono luoghi pubblici, luoghi nostri, che noi dobbiamo tutelare e devono essere tutelati a loro volta. Quindi noi perché dobbiamo tenere... Io allora dico il problema, vedi, di Ischia, e parlare dei problemi di Ischia è molto facile, metterli in evidenza, discuterne, però è anche difficile risolverli. Io mi rendo conto che la politica deve fare dei passi da gigante per quanto riguarda Ischia.